Buonasera a tutti coloro che si stanno unendo a noi, si tratta del webinar il nuovo movimento delle donne per un'economia equa in un formato italiano e tedesco organizzato da Sven Giegel, da Alexandra Giesa e Franziska Brandner, abbiamo più di 800 persone che si sono registrate per questo webinar, quindi aspettiamo un attimo perché si possano collegare tutti, ma potete intanto vedere come è disposto il sistema, soprattutto per quanto riguarda l'interpretazione, troverete in basso le icone, in basso a destra sul laptop, probabilmente in corrispondenza dei tre punti invece del vostro telefono e qui potrete anche selezionare il vostro canale, e lo ripeto in italiano, per i nostri partecipanti italiani. Buonasera e un cordialissimo benvenuto al nostro webinar, il nuovo movimento delle donne per un'economia giusta e un formato interattivo italo-tedesco e diciamo un po'. Perdiamo un po' di tempo, qualche minuto, perché abbiamo quasi mille persone iscritte e diamo il tempo a tutti di entrare e nel frattempo potete cercare il canale per l'interpretazione, per la traduzione che è in basso a destra. C'è un piccolo globo, si può cliccare su questo e scegliere tra le lingue a disposizione, c'è tedesco, italiano e inglese. Nel caso non doveste trovare una di queste lingue, forse non avete la versione di Zoom più aggiornata, questo purtroppo l'abbiamo appena scoperto che esiste questo problema, quindi molto velocemente aggiornare Zoom aiuta. Ancora qualche minuto prima che iniziamo. Magari potete scrivere le indicazioni, mi rivolgo alla mia equipe, per la traduzione nella chat, così le persone lo trovano. E torno a parlare un po' in tedesco, ma non preoccupatevi se non avete ancora trovato l'interpretazione, tra poco lo ripeto anche in italiano. Aspettiamo ancora qualche minuto, abbiamo raggiunto quasi la soglia dei 300 partecipanti, ma altri partecipanti si stanno aggiungendo a noi, troverete tutte le indicazioni nella chat per l'interpretazione, avrete anche la traduzione in lingua italiana con il corrispondente canale. Sì, stanno aggiungendo altri partecipanti e abbiamo anche già una domanda. Aspetterei ancora un minuto circa, il numero di partecipanti continua ad aumentare. Aspettiamo ancora un minuto, avete un minuto di tempo eventualmente per prendervi un bicchiere d'acqua o qualcosa da sgranocchiare, ma comincio con il darvi il benvenuto. Vabbè, ci sono già domande. Bene, il numero continua ad aumentare, anche se più lentamente rispetto all'inizio. Sono le 21.05. Avete visto trovato l'interpretazione? Allora, trovate le indicazioni nella chat e se no, in basso a destra, si possono scegliere le lingue. Bene, iniziamo. Ancora una volta benvenuti, benvenuti al nostro webinar italo-tedesco. Questa sera la tematica che affronteremo è il nuovo movimento delle donne per un'economia giusta ed equa. Si tratta di un formato organizzato da Sven Giegold e Franziska Brandner, che vedete nell'immagine, che hanno organizzato a partire dall'anno scorso. È un formato estremamente amato. Abbiamo già affrontato tutta una serie di tematiche che riguardano l'Italia e la Germania. A volte interessano entrambi i paesi in pari entità, altre volte non altrettanto, ma si tratta sempre di tematiche estremamente importanti per entrambi i paesi. Alcune indicazioni tecniche. Abbiamo all'incirca un'ora e mezza di tempo. Vorremmo terminare puntualmente alle 22.30, dato che è già molto tardi. C'è un'interpretazione simultanea in tedesco, italiano ed inglese. Questa interpretazione e le relative icone le trovate in basso, con il simbolo del globo. Qui potete selezionare il canale. Sarebbe ragionevole che voi cercaste subito le lingue che vi interessano, perché avremo un primo intervento in lingua italiana. Oggi abbiamo quattro ospiti che condivideranno le loro opinioni con noi. Avremo un input iniziale, poi avvieremo un dibattito. Ovviamente ricomprenderemo anche le domande provenienti dal pubblico. E a tale fine avete due possibilità. Potete fare le vostre domande verbalmente, sollevando la mano, cliccando appunto sulla piccola mano, l'icona che vedete, potete sollevare la mano e noi vi potremo cedere la parola. Oppure avete la possibilità di inserire le domande per iscritto nel Q&A o nel F&A in lingua tedesca. Potete inserire le vostre domande per iscritto e avete anche la possibilità di leggere le domande artrui e di votarle. E quindi se una domanda risulta particolarmente interessante, è molto mutata e questa sarà la domanda che verrà posta. Il webinar stasera verrà registrato e nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito web. Vale a dire, se partecipate verbalmente, ovviamente sentiremo la vostra voce che verrà anche registrata. E quindi se non lo desiderate per motivi di privacy, potete fare la vostra domanda per iscritto. Bene, mi chiamo Alexandra Giese, sono europarlamentare del gruppo Greens IFA. Mi occupo soprattutto di politica digitale, ma ultimamente anche molto di politica di bilancio e anche di tematiche femministe. Sicuramente è una delle mie tematiche, delle tematiche che mi sta più a cuore. Quindi vi do il benvenuto assieme a Franzista Brandner e Sven Giegold questa sera. Vorrei fare una breve introduzione nella tematica, poi avremo quattro input da parte dei nostri quattro ospiti e poi apriremo il dibattito. Dunque, di che cosa stiamo parlando? Il nuovo movimento per una economia giusta ed equa. Quale economia e quali donne? Perché proprio in questo momento? In questo momento per la pandemia da coronavirus, noi tutti nel corso dell'ultimo anno e la scorsa primavera abbiamo potuto vivere sulla nostra pelle quanto fosse importante la tematica femminile. Le cassiere nei supermercati, le infermiere, improvvisamente sono diventate le grandi star dell'economia tedesca e lo stesso è valso anche per l'economia italiana. Il personale femminile, il 75% delle persone che lavorano, che hanno attività importanti a livello sistemico, sono soprattutto donne, ma questi lavori non sono sufficientemente riconosciuti. Ed è successo infatti l'esatto contrario. Le donne sono, potremmo dire, la vittima, le vittime predestinate di questa crisi. Perché? Perché le scuole, gli asili, sono stati chiusi a volte parzialmente, a volte completamente. Questo è valso sia per l'Italia e per la Germania. entrambi i paesi colpiti, particolarmente dalla chiusura delle scuole. E in questo caso, quando i bambini rimangono a casa, sono soprattutto le donne che si occupano dei bambini, che si fanno carico delle faccende casalinghe e che trascorrono l'intera giornata a casa. E questo è stato dimostrato anche da recenti studi. I ruoli tradizionali non sono cambiati nel corso dell'ultimo anno, ma le donne svolgono ancora l'80% di questi lavori. Il secondo motivo è che le donne molto spesso lavorano a tempo parziale, quindi il loro reddito è minore e tendono a ridurre ulteriormente il proprio oraro lavorativo. Spesso hanno dei contratti a tempo determinato o hanno delle occupazioni poco retribuite. E questi sono i contratti di lavoro che vengono, per così dire, sacrificati prima in momenti di crisi. E il motivo principale che mi ha colpito particolarmente è il fatto che le donne lavorano in quei settori che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi. E questa è una grande differenza rispetto alle crisi economiche tradizionali oppure alla crisi debitoria del 2008 e del 2009 che ha colpito particolarmente l'industria. In questo caso è il settore terziario che è particolarmente colpito e soprattutto quei settori che si, diciamo, gravitano attorno a noi esseri umani. E queste sono quelle professioni nelle quali le donne sono sovra rappresentate. Avevo già notato la scorsa primavera perché avevo contattato delle associazioni, avevo cercato di vedere quali fosse la quota delle donne che avevano richiesto appunto dei sostegni e sempre più appunto notavo che il numero di donne era particolarmente elevato. E poi è giunto il pacchetto congiunturale, il dispositivo appunto per la ripresa e la resilienza e queste sono le tematiche di cui ci occupiamo in modo particolare noi e abbiamo discusso soprattutto perché ci fosse una soluzione solidale della crisi in modo che la situazione che esiste già a livello di bilancio, la situazione squilibrata che esiste a livello europeo non venisse ulteriormente rafforzata dalla crisi e che la Germania potesse investire in modo anticiclico. Cosa che l'Italia ha fatto in parte ed è per questo che è nato anche questo tipo di formato assieme a Franziska Brandner e a Sven Giegold per poter avere un vero scambio con l'Italia. Quando poi noi ovviamente abbiamo discusso per poter avere un sistema debitorio comune, un sistema che sostenesse tutti gli stati e poi quando è stato approvato il Recovery Fund noi ci siamo prefissi come obiettivo la modernizzazione dell'Europa e di ricostruire l'Europa assieme e l'Italia e Germania possono dare un grande contributo. Io come verde ovviamente ero molto soddisfatta, mi occupo anche della politica digitale e il 37% di questi fondi sono legati alla tradizione dei green, alla protezione del clima, il 20% sono destinati alla digitalizzazione e questo per me appunto, che mi occupo soprattutto di politiche digitali, è un vero e proprio paradiso, ma come femminista devo dire che è stata una vera e propria catastrofe perché quasi il 70% di questi mezzi è destinato a quei settori in cui la componente maschile rappresenta oltre l'80%, quindi le donne sono meno del 20%. Stiamo parlando appunto del settore digitale, delle energie rinnovabili, dei trasporti e del settore dell'edilizia, tutti i settori in cui la componente femminile è estremamente bassa. Questo significa che abbiamo un pacchetto congiunturale europeo, un pacchetto per la ripresa che investe in quella metà della popolazione che in realtà è stata meno colpita da questa nuova ondata di disoccupazione e sembrava che nessuno se ne fosse accorto né nella commissione, né tra i governi, né nell'economia ed è per questo che ho avviato una campagna nel mese di marzo che si chiama Half of It con la quale rivendicavo appunto che la metà di questi fondi del pacchetto per la ripresa europeo venisse speso per le donne e questa campagna in Germania ha avuto uno scarso risalto forse anche perché il pacchetto per la ripresa in Germania non è così consistente come in Italia mentre la campagna in Italia è un paese che riceverà più di 200 miliardi dall'Europa e che quindi ha grandi piani con questo pacchetto per la ripresa va bene, questa campagna ha veramente trovato un terreno fertile abbiamo anche due persone che hanno partecipato alla campagna e che sono presenti stasera ed è nato un grande movimento in realtà si tratta di due movimenti che hanno cercato di far sì che questa tematica trovasse grande accoglienza da parte dell'opinione pubblica e ciò nonostante appunto nonostante questa grande organizzazione nonostante tutti gli articoli pubblicati nella stampa quando si è insediato il nuovo governo in Italia i ministri che sono più importanti per la ripartizione di questi fondi in realtà sono pressoché uomini sebbene in Italia i numeri e le cifre e le statistiche mostrano chiaramente che il 70% delle persone che in Italia non sono più presenti sul mercato occupazionale che hanno dovuto lasciare il proprio lavoro nei primi dieci mesi della crisi sono donne e nel mese di dicembre addirittura il 98% quindi vediamo chiaramente sulla base dei numeri e delle statistiche che è una crisi che colpisce soprattutto le donne ma il pacchetto per la ripresa europeo che abbiamo esaminato in maniera dettagliata con uno studio e per quanto ne so anche i piani per la ripresa tedeschi escludono totalmente le donne da questo appunto ne conseguono i quesiti che ci vogliamo porre stasera come possiamo far sì che le donne abbiano parità di riditti e siano equamente rappresentate nella società e nell'economia come possiamo mostrare che l'economia non è neutrale in termini di generi ma si basa appunto sulla ripartizione del lavoro in settori che devono essere affrontati dalla crisi e come possiamo noi donne organizzarci in entrambi i paesi e creare un nuovo movimento che pensi l'economia in modo femminista e il femminismo anche da una prospettiva economica stasera abbiamo quattro ospiti io spero che anche i nostri ospiti italiani e gli nostri ospiti tedeschi ci possano raccontare come creare appunto in Germania un movimento analogo a quello italiano ma forse potreste anche raccontarci che cosa possiamo migliorare dove le cose non hanno funzionato come avrebbero dovuto ed è per questo che vorrei dare il benvenuto innanzitutto a Linda Laura Sabadini Linda Laura puoi farci ciao perfetto Linda Laura Sabadini è presidente del Women 20 che è uno degli engagement group del G20 istituita nel 2015 sotto la presidenza turca il V20 avrà luogo in Italia quest'anno e il suo lavoro principale è quello di direttrice centrale dell'Istituto Italiano di Statistica Istat il nostro omologo del Bundesamt für Statistik ha pubblicato uno studio che affrontava appunto il ruolo delle donne nella famiglia ha tutta una serie lunghissima di interventi non entrerò nel dettaglio è anche una pubblicista italiana pubblica i propri articoli quasi quotidianamente su tutti i giornali e gode di grande fama quindi siamo lieti di averti tra i nostri panelist Lilla comincerei con te o forse sarebbe bene che presentassi tutti comincio col presentare tutti quanti in modo che tutti sappiate chi è presente stasera poi abbiamo Giannette Busco Giannette ci saluta che è cofondatrice della più grande piattaforma di raccolta fondi e si occupa di trasformazione digitale ed è femminista come ho già detto appunto cofondatrice della più grande piattaforma di raccolti fondi al mondo GoFundMe ed è attiva ed è portavoce della rete Dritte Generation Ost Deutschland e si occupa anche del brand globale della piattaforma Change.org di cui ha diretto la comunicazione nel 2012-2017 ti diamo il benvenuto Giannette e avrai sicuramente molte cose interessanti da raccontarci da cui potremmo imparare molto poi dall'Italia abbiamo ancora Sara Maleric ciao Sara Sara è influencer e fa parte del duo Instagram Mamma di Merda con 60.000 follower ed è blogger autrice di libri sulla possibilità o l'impossibilità di essere madre e ci racconta appunto molte storie con una certa diciamo ironia ed è diventata un vero e proprio mito su Instagram ed è attivista del movimento femminista il giusto mezzo che diciamo è nato anche sulla scorta della campagna Half of It Linda Laura si è occupata anche di questa tematica mi ero dimenticata di dirlo prima e poi abbiamo Sonia Lenert Sonia Lenert è blogger content creator social media manager ha un blog che si chiama Mama Notes ed è co-fondatrice di Eltern Rechnen Up i genitori fanno i conti e questo è anche il motivo principale per cui l'abbiamo invitata perché con questo hashtag Eltern Rechnen Up ha cercato di insomma presentare il conto di tutte le attività svolte per i propri figli e per la casa al governo tedesco per evidenziare quanto le donne di quanto lavoro le donne si devono fare carico nella crisi ed ora cederei la parola per prima a Linda Laura Sabatini direttrice centrale dell'Istituto Italiano di Statistica Istat e una grande portavoce del movimento femminista italiano prego allora intanto grazie Alexandra Alexandra mi ha chiesto in particolare di soffermarmi un po' anche sulla situazione complessiva che vive l'Italia in questo momento e quello che va detto è che lei ha ragione cioè il crollo di occupazione che c'è stato in questo in questo periodo è stato grande siamo arrivati nel complesso nel 2020 a 414.000 occupati in meno la maggioranza di questi sono assolutamente donne e è vero che appunto questo è avvenuto perché in particolare i settori che sono stati più colpiti sono stati i settori dove il settore dei servizi a differenza del passato che era stato colpito l'industria le costruzioni a prevalenza maschile adesso sono stati colpiti i settori di servizi in particolare turismo ristorazione alberghi servizi domestici eccetera dove la presenza femminile è alta a questo va aggiunto un altro elemento il secondo elemento è che in questi settori comunque le donne svolgono un ruolo hanno dei lavori che sono molto precari e spesso anche irregolari e questo significa che anche a fronte diciamo così del degli interventi che sono stati messi in campo come la cassa integrazione tenete conto che il 75% della cassa integrazione delle ore di cassa integrazione sono andate a finire a uomini perché ovviamente coprono di più maggiormente i settori a prevalenza maschile soprattutto nel campo dell'industria allora il problema naturalmente qual è che le misure messe in campo non riescono a tutelare forme di lavoro che sono quelle più precarie tant'è che dei 414.000 diciamo occupati in meno in realtà 383.000 sono dovuti a occupati che hanno occupazione a termine e 129.000 a indipendenti quindi il grosso diciamo si è scaricato sul lavoro precario oppure su micro imprese e lavoratrici soprattutto lavoratrici indipendenti allora qui un primo dato che ci tengo a sottolineare è che quando analizziamo questi dati dobbiamo sempre guardare agli occupati e non agli disoccupati questo lo dico perché sennò poi è bene capirlo perché altrimenti poi si fa confusione in questo periodo sono diminuiti gli occupati e sono diminuiti i disoccupati sembra una contraddizione ma è così perché perché la definizione di disoccupato significa che tu non hai lavoro e non l'hai cercato attivamente cioè non lo hai cercato questa è la questione fondamentale per essere definito disoccupato siccome la pandemia è stata grave e la gente ha perso molto lavoro quello che succede in questi momenti particolarmente critici è che la disoccupazione non magari non aumenta ma può diminuire perché le persone sono sfiduciate e non cercano il lavoro quindi soprattutto per le donne questo lo dico perché in particolare al sud c'è un problema grandissimo per le donne del sud di sfiducia perché siccome anche gli uomini stanno in una situazione molto critica questo strutturalmente da anni ovviamente le donne sono ancora meno motivate oltre a altri motivi a cercare lavoro quindi questo è il dato il problema ovviamente è quello che ha posto Alexandra cioè a fronte di questo dato in cui noi ci troviamo come paese in una situazione in cui la pandemia si è sovrapposta a una situazione precedente grave delle donne perché perché in realtà noi faticosamente eravamo arrivati a un 50% di tasso d'occupazione quindi molto lontano dalla media europea che ha superato abbondantemente il 60% è arrivata mi pare al 64% e ancora più lontano dai paesi d'Europa che stanno più avanti noi ci siamo trovati con una pandemia che ha colpito le donne quando le donne avevano aumentato un po' ma metà già non lavorava quindi il problema è che noi dobbiamo risalire alle criticità che ci sono dietro questa difficoltà sul piano occupazionale delle donne e le criticità stanno nel fatto che questo paese non si è mai dotato di una strategia adeguata per la crescita e l'occupazione femminile non si è mai sognato di dotarsi di una strategia di politiche sociali che permettesse di eliminare dalle spalle delle donne il carico di lavoro di cura familiare che è elevatissimo e che è tra i più elevati che ci sono in Europa perché la divisione dei ruoli è asimmetrica e gli stereotipi di genere ancora sono sviluppati ma sostanzialmente il nostro paese non ha mai investito in infrastrutture sociali aveva instaurato è stata fatta una legge nel 71 sui nidi pubblici sono stati instaurati per la prima volta nel 71 che cosa è successo che a distanza di 60 anni noi abbiamo il 12% di bimbi che vanno a nido non ci sono pubblico pubblico poi si raddoppia se consideriamo anche il privato non ci sono proprio le infrastrutture soprattutto al sud non ci sono e questo è uno due è stata fatta una legge sull'assistenza che era molto bella nel 2000 quella legge in 21 anni non è stata applicata terzo punto è stato adottato un obiettivo il 60% da raggiungere a livello europeo era un obiettivo comune di tutti i paesi 60% non ci siamo arrivati ma non è che nessuno che qualcuno ha fatto i conti con questo 60% a cui non siamo arrivati non ci si è dotati di nessuna strategia qua un po' in tutti i paesi in Germania stesso ci sono state delle fasi in cui sulle infrastrutture sociali per esempio si è investito fortemente allora le donne hanno pagato in Italia hanno pagato anche questo se tu non investi nella sanità nell'istruzione nell'assistenza tenete conto che rispetto alla Germania noi abbiamo investimenti nell'assistenza di un terzo cioè proprio molto molto al di sotto se non investi in questo chi è che viene penalizzato considerando che la maggioranza stragrande maggioranza dell'occupazione in questi tre settori femminile viene penalizzata le donne non entrano al mercato del lavoro allora è chiaro che la strategia deve prevedere l'accesso delle donne in tutti i settori e non soltanto ghettizzarle in alcuni però è anche vero che quei settori che servono alla qualità della vita delle persone non sono sufficientemente potenziati quindi prima cosa e qui le donne si sono molto attivate e una delle esperienze è stata quella di donne per la salvezza a cui ho partecipato che hanno prodotto un grosso documento con delle proposte molto chiare 50 associazioni che ne fanno parte cioè è stato molto come dire è vero quello che ha detto Alessandra si è creato un grosso fermento un grosso fermento che va che ha ha portato anche un po' a unire a unire le forze questa è una cosa fondamentale in un momento del genere perché qui ci stiamo giocando il futuro di questo paese il futuro un futuro che può essere molto migliore se si capisce che la parità di genere deve essere nelle priorità e in questo sforzo proprio nell'ambito di questo documento di donne e la salvezza che abbiamo elaborato quello che veniva fuori era fare per non su alcuni punti fondamentali il primo che se la crisi è una crisi della cura perché è stata una crisi della cura cioè deriva dal fatto che i governi non sono stati in grado di difendere i propri cittadini sul piano proprio della cura complessivo ma non soltanto sanitaria in senso ampio dalla cura bisogna ripartire e non è possibile che questa cosa non venga fatta voi state sicuramente in Germania in una situazione migliore della nostra ma l'Italia su questo cioè il recovery deve rappresentare uno strumento per recuperare tutto il tempo perduto e fare un balzo in avanti perché quel tempo che è stato perduto si è scaricato sul lavoro non retribuito delle donne l'hanno pagato in primis le donne che ovviamente a quel punto sono più vulnerabili proprio nel momento in cui è venuta fuori la crisi pandemica come questa e il paradosso è che alla fine questa in questa crisi in prima fila ma questo anche da voi in tutti in tutti i paesi le donne svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito della sanità in Italia stiamo ai due terzi del personale sanitario che sono donne è vero che sono i due terzi donne però poi quando andiamo ai livelli decisionali alti le donne sono poche perché arriviamo sennò al venti per cento di primari però comunque sono i due terzi sono state in princea cioè sono quelle che non solo su questo fronte sui servizi domestici sullo smart working sono state di più le donne che non gli uomini la stima che che c'è dei dati istat emerge che ventitré per cento delle occupate sono state in smart working contro il diciasette per cento degli uomini anche per i tipi di lavoro che sono diversi questo ovviamente ha creato l'ulteriore problema del grande sovraccarico di nel caso dello smart working che non dovremmo chiamare smart working perché non è non è smart working così lo chiamiamo lavoro da casa dove praticamente contestualmente il lavoro familiare il lavoro non retribuito si sono sovrapposti come fasce orarie come tutto e questo ha creato una situazione che è assolutamente insostenibile e che in tutti i paesi si è evidenziata da noi ovviamente è più grave perché c'è una simmetria della divisione dei ruoli nella coppia allora a questo punto la cosa importante che va detta e quello che abbiamo individuato come punti fondamentali è primo grande piano per le infrastrutture sociali in un paese dove questo non è mai stato fatto quindi su tutti i fronti secondo grande piano anche sul fronte degli stereotipi che vuol dire agire su tutti quegli aspetti che impediscono quella gabbia che impedisce alle donne di poter accedere alle materie STEM di poter realizzarsi in lavori nei settori che sono a prevalenza maschile eccetera e soprattutto anche un grande investimento rispetto alla imprenditoria femminile su cui i grossi problemi che si giocano nel nostro paese dove ci sono moltissime piccole imprese e le donne stanno in imprese che sono più piccole tendenzialmente è le difficoltà di accesso al credito e anche i problemi di formazione nei confronti di una economia che sta rapidamente cambiando perché noi non abbiamo avuto soltanto la pandemia abbiamo avuto la pandemia abbiamo il problema dell'impatto dei cambiamenti climatici abbiamo il problema della rivoluzione tecnologica che è assolutamente in atto e che tra poco troveremo vedremo le conseguenze anche in termini di cambiamenti di professioni di grandi sconvolgimenti complessivi nell'organizzazione del lavoro quindi mi fermo qui perché credo di essere andato anche fin troppo avanti però questo è il segnale la cosa importante è che c'è stata una grande reazione e la reazione ha portato verso l'unità di intenti di tante donne di estrazioni diverse e anche una condivisione con le donne diciamo dei diversi partiti e si è andati molto al di là di puri schieramenti tradizionali e questa secondo me è la chiave di volta cioè io ci credo moltissimo penso che questa battaglia si vince solo e unicamente se si è trasversali se si capisce che bisogna essere unite su alcuni obiettivi chiari che ci devono far fare il balzo grazie grazie linda laura vielen vielen herzlichen dank sì grazie non posso che condividere quanto hai appena detto in particolare l'ultima parte del tuo intervento in Italia c'è stata una grande reazione come abbiamo sentito Sonia Sonia nella primavera hai avviato una sorta di protesta che ha molte analogie diciamo poi non ha funzionato così bene ma forse ci puoi raccontare qualcosa di questa iniziativa Elten Rechnen Up in realtà noi siamo rimasti molto sorpresi della risonanza che ha avuto la nostra azione di protesta speravamo appunto in una reazione da parte di blogger e genitori che in qualche modo sono presenti sui social media era nel maggio 2020 quindi circa due mesi dopo l'inizio del lockdown la mia data personale d'inizio è il 16 marzo quindi oggi festeggio un anno in occasione di un tweet per gli auguri per la giornata della donna da parte del ministero per la famiglia una uscita piuttosto infelice sui social media che mostrava appunto una donna felice in una cucina splendente con il proprio figlio come se non ci fosse alcun coronavirus come non ci fosse alcun lockdown la didattica a distanza e nessuna anche sequela economico-finanziaria della crisi come se fosse nel 1950 e in questo questo ruolo gran parte delle madri già se lo sentivano troppo stretto e quindi il ministero alla fine ha dovuto cancellare questo tweet e poi Rona Druve e Karin Hammond con loro due ho parlato abbiamo anche noi tweetato e abbiamo avviato una nostra iniziativa noi volevamo appunto sottolineare l'importanza del ruolo della didattica a distanza delle faccende casalinghe del lavoro a casa che sostanzialmente non viene percepito dalla società e a ciò si aggiunge in questo contesto di crisi pandemica non solo appunto le normali faccende casalinghe o normali lavori che vengono ripartiti tra i genitori ma anche le difficoltà economiche e la didattica a distanza con i bambini a casa quindi i genitori si fanno carico di un lavoro diciamo didattico e scolastico che non viene fornito per così dire dalle istituzioni scolastiche e nel maggio 2020 si capiva ormai già che sarebbero state le donne a doversi fare carico di questo ulteriore lavoro di seguire i propri figli di seguire le faccende casalinghe e che avrebbero dovuto pertanto rinunciare a una parte del proprio orario di lavoro nel caso anche del tweet del ministero sulla famiglia anche nelle mie riflessioni spesso non si considera il fatto che ci sono dei genitori single e che devono pertanto mantenere la propria occupazione perché non hanno per così dire un compagno o un marito o una moglie che li possa sostenere e che quindi devono sopravvivere anche alla didattica a distanza quindi tutto il lavoro familiare l'educazione dei figli viene per così dire considerata semplicemente una questione privata come se non esistessero appunto delle donne con delle proprie professioni o delle proprie carriere ma come se le donne sostanzialmente fossero delle donne che si occupano sostanzialmente della casa e poi anche della propria professione quindi non si capisce quello che è il vero valore delle donne non si capisce quello che è il loro lavoro né tantomeno lo si riconosce i genitori in questa crisi pandemica ovviamente devono farsi carico di molteplici aspetti questo va considerato e la famiglia viene considerata come un mero problema privato quindi noi riteniamo che in realtà il privato diventa una tematica politica perché comunque una performance economica perché ovviamente noi sostanzialmente stiamo educando e crescendo quelli che saranno i contribuenti del futuro e quindi nella crisi pandemica l'industria automobilistica e la luft hanno ricevuto un grande sostegno da parte del governo ovviamente tutti questi fondi provengono dai contribuenti cioè dai genitori dai padri e dalle madri mentre le famiglie devono in ultima analisi risolvere da soli i propri problemi economici finanziari di orario e professionali ma quindi se noi aiutiamo la lufthansa la mercedes se l'industria automobilistica se noi le finanziamo allora anche noi vogliamo i soldi anche noi famiglie vogliamo i soldi abbiamo una situazione di crisi ovviamente siamo responsabili abbiamo questo senso di responsabilità e sappiamo che questa crisi deve essere risolta da parte di tutta la società e ovviamente noi come genitori abbiamo tutto l'interesse affinché i nostri figli vengano protetti protetti dai virus dal coronavirus e ovviamente siamo a favore anche della chiusura delle scuole per proteggere i nostri figli ma ciò che non comprendiamo è che tutto il lavoro di cura sostanzialmente è una tematica semplicemente privata che non trova riscontro dal governo e che non viene in qualche modo alleviato da parte del governo gli interessi delle donne delle famiglie dei figli non vengono in qualche modo sostenuti noi non abbiamo delle alternative ad esempio ai sistemi di aereazione nelle scuole non ci hanno offerto alcuna ulteriore soluzione per poter ovviare al problema della diffusione del virus in tal senso e quindi abbiamo avviato delle riflessioni e abbiamo sostanzialmente deciso che avremmo avuto bisogno di un aiuto per questo lavoro supplementare e in questa direzione sono andate le nostre riflessioni e abbiamo avviato questa sorta di azione di protesta che si chiama Elton Reichen NAP cioè i genitori fanno i conti e abbiamo iniziato a rivolgerci al diciamo al governo cercando di calcolare tutti quelli che sono i lavori supplementari che noi facciamo cioè il lavoro di cura dovevamo occuparci dei figli ovviamente dovevamo seguirli nella didattica a distanza ma avevamo anche tutta una serie di altri lavori ad esempio che non mi consentono di occuparmi della mia professione devo fare più faccende casalinghe devo cucinare più spesso e nei nostri articoli sul blog avevamo messo assieme anche una sorta di fattura perché ognuno ovviamente è in grado di emettere una fattura se è un professionista ma le mamme non hanno mai preparato delle fatture di conseguenza abbiamo preso isposto delle fatture e abbiamo elencato anche la lista di tutti i twitter account dei ministeri abbiamo elencato tutti gli indirizzi dei ministeri in modo che le madri potessero o i genitori potessero scrivere ai ministeri e inviare loro la propria fattura e moltissime donne hanno seguito il nostro esempio molte donne molte blogger anche giornaliste hanno partecipato alla nostra azione di protesta e nei primi giorni addirittura nelle prime settimane hanno scritto degli articoli hanno spiegato per quale ragione partecipassero a questa azione di protesta e perché la trovassero particolarmente sensata e ragionevole e anche nel mondo diciamo dei social media e dei blogger abbiamo trovato grande riscontro e questa azione di protesta è cresciuta sempre di più abbiamo ricevuto richieste di interviste di reportage abbiamo partecipato abbiamo ricevuto richieste da parte di gran parte dei talk show tedeschi noi avremmo voluto ovviamente anche affrontare i contenuti della tematica stessa cioè come è possibile che noi come genitori scriviamo una fattura al ministero io continuo a essere a favore di questo tipo di soluzione ma ovviamente possiamo entrare anche nei dettagli e in questo si inserisce il secondo livello di questa mia storia di questa mia azione o storia di protesta femminista c'è è stata è partita un una serie di shitstorm dei soliti ignoti che hanno portato all'attenzione della propria community la nostra azione di protesta e che hanno appunto generato questo vero e proprio shitstorm deviando anche il discorso dalla tematica originaria e quindi visto che noi sostanzialmente volevamo mettere in conto l'ulteriore lavoro che svolgevamo e questo shitstorm è poi via via degenerato siamo state minacciate noi donne minacciate anche di violenza sessuale e quindi in quanto madri in quanto appunto madri che dovevano gestire i figli dovevano occuparsi delle faccende casalinghe cuginare eccetera a questo punto ovviamente a prescindere anche dallo stress psicologico che tutto ciò comportava abbiamo deciso di non di non accettare gli inviti ai talk show perché non volevamo presentarci per così dire all'opinione pubblica non abbiamo avuto il coraggio di farlo abbiamo trascurato quindi un po' la nostra attività come blogger abbiamo continuato però ad affrontare le tematiche sui social media ma a questo punto molte giornaliste blogger che avevano seguito il nostro esempio hanno partecipato ai talk show privatamente non come esponenti dell'azione di protesta stessa ma hanno voluto spiegare quanto fosse importante che questo lavoro di cura venga retribuito e cercando di spiegare anche per quale motivo è importante evidenziare e rendere visibile questo tipo di lavoro supplementare delle donne quindi riteniamo che questa azione di protesta che ha avuto un grande successo e ha avuto una grande risonanza nella comunità di madri e di genitori come un successo però indubbiamente abbiamo forse scosso le fondamenta del patriarcato e non siamo riusciti ad andare avanti avremmo dovuto per così dire andare al di là della soglia della nostra sicurezza individuale abbiamo avuto paura quindi non abbiamo proseguito in tal senso perché avevamo paura veramente per la nostra incolumità e diciamo che è già accaduto in passato che vi siano stati degli shitstorm rivolti dalle donne grazie rivolti alle donne scusate grazie Sonia è importante che tu condividessi questa tua esperienza io ho preso che hai detto tre cose particolarmente importanti innanzitutto che siete riusciti a dare visibilità al lavoro di cura in modo molto concreto senza che risultasse astratto e poi hai spiegato per quale ragione risulta così difficile per le donne organizzarsi creare una vera e propria community semplicemente perché non abbiamo tempo perché se dormiamo sei ore abbiamo due figlie nel contempo dobbiamo anche lavorare beh è impossibile trovare altro tempo questa per me è stata la grande motivazione per avviare questa campagna perché i miei figli oramai sono grandi però mi posso davvero ricordare al periodo in cui non dormivo in cui lavoravo a casa e quindi ho deciso di occuparmi di questa tematica e il terzo punto è come le iniziative delle donne molto spesso vengono frenate perché scuotono alle fondamenta il patriarcato e si creano delle vere e proprie reazioni come gli shitstorm e questo mostra anche come sostanzialmente è stato soffocato il movimento politico che stava nascendo noi non siamo semplicemente blogger non abbiamo alcuna esperienza politica e quindi non avevamo capito di dover sostanzialmente decidere se appunto voler varcare la soglia del pubblico e diventare appunto un personaggio pubblico oppure meno ovviamente noi speravamo all'epoca che le scuole avrebbero riaperto e che tutto sarebbe cambiato ma è incredibile che noi non possiamo avviare un'azione di protesta come cittadini non possiamo farlo perché viene soffocato sul nascere e un aspetto vorrei aggiungere ancora ciò che deve essere garantito nel patriarcato è sostanzialmente il potere dei patri è un potere dei padri e le madri ovviamente sono ciò che deve essere controllato e se le donne si ribellano se le donne vogliono avere visibilità vogliono avere pari diritti noi vogliamo semplicemente pari diritti e pari potere non vogliamo altro bene se si cerca di perseguire di raggiungere questo obiettivo il tutto viene soffocato sul nascere che spunta tutta una serie di attivisti dei diritti maschili insomma che molto spesso sono della destra e che soffocano sul nascere qualsiasi azione di protesta delle donne grazie sì non è molto incoraggiante ma dovremo affrontare anche questo aspetto un'altra mamma Sara Malleric buonasera Malleric mamma di merda in Italia a te cedo la parola buonasera sono molto curiosa peraltro di sapere come si traduce mamma di merda in inglese e in tedesco non sono ovviamente qui come tecnica né come studiosa ma appunto per riportare la mia esperienza nell'ultimo anno come promotrice e cofondatrice di due movimenti insieme alla mia amica e coautrice del blog mamma di merda che si chiama Francesca Fiore di due movimenti spontanei dal basso a larga partecipazione femminile uno di questi si occupa di diritto all'istruzione e di scuola che in Italia ma mi pare di capire anche in Germania è da pannaggio prevalentemente femminile come tema e l'altro si chiama Il giusto mezzo che ha ripreso le proposte di Alfovit di Alexandra noi dal 2016 scriviamo di maternità e di femminile in chiave ironica cercando di scardinare da dentro gli stereotipi legati in particolare alla figura della madre con tutto ciò che ne consegue per le donne tra i nostri temi ovviamente più caldi c'è quello della sperequazione del lavoro di cura e della condivisione che di esso deve esserci lo abbiamo fatto utilizzando la comicità delle nostre formule e un linguaggio pop primo perché ci appartiene e secondo perché volevamo arrivare a tutte e non solo a quelle che erano già consapevoli o sensibilizzate sul tema però lo abbiamo fatto riferendoci sempre solo alla diciamo alla dimensione individuale alla dimensione privata partendo dal principio che le rivoluzioni iniziano da dentro casa propria dall'individuo invece un anno fa esatto è stato necessario un passaggio e questo passaggio è avvenuto durante il lockdown quando con le scuole chiuse di ogni ordine grado esattamente in una situazione grave come quella attuale è diventato molto evidente il non detto cioè il non detto il sottinteso che a casa con i figli ci sarebbero state le donne ritenute sacrificabili dal mercato del lavoro questo passaggio non ci ha lasciato dubbi sui temi perché ci è bastato guardare cosa stava succedendo a noi cosa stava succedendo nelle nostre vite e metterci in ascolto delle altre donne potendo disporre di una comunità tra facebook e instagram di 140.000 donne donne che continuavano e continuano a segnalarci desperatamente la loro condizione la condizione che stanno vivendo e che Linda Laura Sabadini ma anche la blogger prima di me hanno descritto perfettamente la situazione è sovrapponibile in Italia come vedete io sto facendo questo webinar da quello che è diventato il mio ufficio nell'ultimo anno come molte di voi e la prima cosa che abbiamo fatto è stata decidere di utilizzare il nostro blog per farci collettore di questo disagio con varie campagne di attenzione mediatica di protesta perché per due mesi per i primi due mesi della pandemia ad esempio bambini e famiglie erano completamente scomparsi dall'agenda politica dai discorsi addirittura erano stati proprio rimossi abbiamo utilizzato tutti i nostri canali sulla rete fino ad arrivare ai media tradizionali che sono necessari come i giornali che in Italia li leggono in pochi a quanto pare però li leggono ancora quelli che li devono leggere quindi è fondamentale attraverso queste campagne abbiamo conosciuto altre donne che stavano reagendo come noi come appunto segnalava Laura Sabadini c'è stata una grande reazione una situazione veramente insostenibile e altre donne che erano già attive su questi temi o si stavano attivando e abbiamo cominciato a interagire a collaborare e a sostenere le loro iniziative ma queste iniziative le abbiamo sempre rilanciate con le nostre modalità con il nostro registro con la nostra chiave ironica nel nostro linguaggio perché sebbene le battaglie si combattano anche per chi non ha la consapevolezza per noi è rimasto sempre fondamentale che anche altre avessero coscienza che quello che stava accadendo loro aveva un nome preciso e una causa e anche un impatto collettivo una di quelle campagne che abbiamo sostenuto è stata quella di Dateci Voce che ha posto il tema della rappresentanza di genere della rappresentanza femminile perché nella prima fase dell'emergenza in Italia tanto per cambiare abbiamo visto susseguirsi una serie di task force quasi integralmente maschili a gestire l'emergenza e attraverso Dateci Voce noi abbiamo conosciuto la petizione di Alphavit e abbiamo cominciato a rilanciarla dai nostri dai nostri canali mentre contestualmente ci attivavamo con tutte queste altre donne che avevamo conosciuto nelle campagne e abbiamo cominciato ad avviare una riflessione su quello che proponeva Alphavit che è sfociato poi nel giusto mezzo da 13 donne che hanno cominciato a parlarsi in lockdown adesso ho perso il filo del discorso ovviamente dunque abbiamo cominciato a rilanciare la petizione di Alphavit e la prima cosa che abbiamo fatto è stata di nuovo cercare di avvicinare altre donne ma non quelle già edotte o sensibili a questi temi perché se rimaniamo a raccontarcela tra di noi non spostiamo niente volevamo arrivare a chi non aveva neanche mai valutato che la questione di genere potesse incidere così tanto nella sua vita e nella sua economia nonché in quella di un paese o dell'Europa addirittura quindi abbiamo fatto una doppia operazione di decodifica di temi che erano strettamente economici e trasportarli su un piano più commestibile per tutte ma anche per me ad esempio perché io non sono un economista io ho una formazione umanistica quindi figuriamoci e sono riuscito a farlo di nuovo grazie ad altre donne che hanno messo a disposizione il loro tempo i loro studi le loro competenze e questo è un po' secondo me è la chiave no? è la vicinanza l'empatia la generosità no? in una parola la sorellanza e non far calare dall'alto le cose che pone sempre una distanza poi con l'interlocutore il secondo passo è stato quello che facciamo noi che faccio io con la mia amica che tecnicamente sulla rete si chiama creare hype e engagement sul tema cercando di far passare il messaggio che se non ci fossimo occupate della politica comunque la politica si sarebbe occupata di noi e l'avrebbe fatto con le solite modalità con le modalità che si sono rivelate le peggiori per noi per le donne se non avessimo neanche provato a far ascoltare le nostre istanze ecco questo è quello che io personalmente ho fatto ma come parte di un processo più ampio insieme ad altre donne e grazie ad altre donne ciascuna secondo le proprie professionalità le proprie competenze e anche le proprie attitudini chiaramente e insieme a loro abbiamo declinato le proposte di Alphavet secondo le evidenti gravissime urgenze che bisogna sanare in Italia appena il blocco del sistema un sistema che è già estremamente stressato e a quel punto è diventato veramente molto chiaro a tutte che la questione riguarda chiunque ho finito grazie mille Sara stavo cercando il microfono tenere i tempi di parola stasera sono stata di manica molto larga ma ci sarà tempo per la discussione Giannetta a te la parola sì grazie Alexandra per l'invito un anno quindi dopo l'inizio della pandemia un anno dopo l'inizio della pandemia molte lavoratrici molti genitori molti genitori single e bambini e giovani anche persone che sono esposti ad alto rischio particolarmente vulnerabili si trovano a vivere la stessa situazione che ha comportato grandi problemi grandi per persone problemi per le persone transgender trans non binarie lesbiche abbiamo già ascoltato molteplici aspetti appunto del lavoro di cura ma vorrei affrontare quello che è appunto il lavoro di cura nel suo complesso il lavoro di cura dei figli dei di persone appunto che hanno bisogno di assistenza e quello che vogliamo evitare è proprio che questa recessione si trasformi in una sci session cioè in una recessione esclusivamente delle donne perché le donne sono presenti particolarmente in tutti questi settori i settori del terziario i settori appunto che hanno molti contatti con la clientela quindi il quesito che ci poniamo oggi è come potrebbe essere un nuovo movimento delle donne in tal senso e quindi dobbiamo concentrarci sulla contemporaneità sulla complessità e sull'insieme appunto di crisi che si intersecano la disparità nella distribuzione dei mezzi finanziari e anche questa è una forma di violenza una violenza economica e che crea in base a avvocatessa tedesca nuove dipendenze dipendenze che fanno sì che le donne non riescono a liberarsi di relazioni ormai tossiche e che spesso diventano vittime di violenza domestica vale a dire una nuova definizione della economia cerca di ricomprendere anche a questo aspetto femminista un esempio di cui abbiamo già sentito parlare oggi da parte appunto di Laura Sabadini è che si è parlato di shutdown economico ma l'orario di lavoro appunto delle donne è aumentato indubbiamente e le donne sono sostanzialmente escluse dai processi decisionali quindi le donne non soffrono solo di povertà economica ma hanno anche poco tempo a disposizione quindi a povertà in termini di tempo ora l'economia femminista cerca di mobilità mobilitare per poter avviare delle risposte politiche che possano modificare la società e la politica stessa per poter superare la crisi nel senso di un fight every crisis alexandra all'inizio avevi sollevato alcune domande ora rispetto all'italia di cui abbiamo già ascoltato dei movimenti che sono nati il giusto mezzo o non una di meno e che sostanzialmente hanno già affrontato la ripartizione dei mezzi finanziari del next generation EU e che hanno criticato le strutture patriarcali e hanno avviato delle proteste in Germania finora questo tipo di movimenti non è nato qui vediamo sostanzialmente piccole iniziative che avanzano delle rivendicazioni delle singole rivendicazioni delle donne sono state avviate in passato delle campagne che si sono occupate di pari retribuzione della presenza delle donne nei ruoli dirigenziali a livello aziendale ma anche politico penso ad esempio al settore finanziario e che intrattengono stretti contatti con le aziende ho fatto qualche ricerca in Germania abbiamo ad esempio il Fair Pay Innovation Lab o l'Equal Care Day esistono altre iniziative diverse comunità in cui le donne si mettono in rete anche nel settore digitale esiste anche VAS Fadint di Frau una iniziativa della Confederazione Sindacale tedesca e una campagna anche dell'ultimo anno l'anno scorso sembrava appunto che dovesse essere approvata una legge riguardante appunto il ruolo delle donne nei ruoli dirigenziali e tutta una serie di donne della comunità scientifica e culturale hanno avviato una iniziativa Ich Will Io Voglio che ha esercitato grandi pressioni e che ha consentito l'approvazione di tale legge quindi iniziative più piccole che in qualche modo vogliono dare un'impronta femminista all'economia e per il nostro webinar di stasera vorrei citare cinque fattori di successo che dalla mia prospettiva sono importanti per un movimento europeo per una economia femminista il primo fattore è una una theory of change incisiva forte ed europea quindi i movimenti di successo hanno una grande visione della nostra società che è quasi contagiosa che motiva e che mostra anche come possa essere realizzata questa grande visione ad esempio raddoppiare le retribuzioni nel settore della cura e ad esempio c'è un gruppo britannico nella propria care resolution che mostra per quale ragione è più sostenibile investire nel settore della cura piuttosto che non nel settore dell'edilizia altri due esempi sarebbero il 50 milioni investment fond o la feminist funding initiative che si è occupata anche di sessismo e di fundraising per porre freno appunto al sessismo quindi diciamo è proprio questo lo scopo che si prefigge la pandemia ovviamente nonostante le grandi difficoltà può essere un argomento che venga cavalcato se penso alle elezioni che si terranno in Germania prossimamente questo è un altro punto un'allianza della società civile sta elaborando tutti questi aspetti per sensibilizzare l'opinione pubblica ai cittadini in particolare nel settore economico e il terzo punto è unire la mobilitazione e l'attività politica interna ed esterna ad esempio nel economic recovery plan che è stato elaborato da un collettivo interdisciplinare di circa 40 attivisti assieme anche a funzionari della politica e della amministrazione e che si fa carico di molte tematiche femministe un ulteriore punto e che posso ricollegare a molteplici iniziative riguarda le alleanze intersezionali nella società civile che coalizzino classi razze e generi e l'ultimo punto è che per una attività di successo occorrono ovviamente le tattiche le tattiche riguardanti appunto la comunicazione dei successi in particolare i primi ho predisposto appunto una slide a tale proposito che vorrei farvi vedere che è in lingua tedesca e che vi offre appunto una panoramica dei punti che ho al pena elencato e questo punto riguarda proprio le tattiche cioè di appropriarsi per così dire anche dei successi più piccoli come le campagne per ridurre l'iva sui sugli assorbenti e sui tamponi è una iniziativa che si è estesa poi a molti altri paesi e che ha consentito appunto la riduzione dell'iva sugli assorbenti interni quindi equità anche a livello fiscale e questo credo che sia una tematica estremamente interessante e importante ovviamente anche dare continuità a tutti questi aspetti Alexandra è anche vero che sempre più lavoratrici proprio nel momento in cui così tanti esprimono la propria solidarietà alle donne in particolare nella giornata della donna bene molte donne possono richiedere ai propri datori di lavoro bene quando pubblicheremo a questo punto le retribuzioni dei dipendenti dell'azienda importante è coinvolgere le donne la fuori e canalizzare anche la partecipazione delle donne nella società civile grazie e non vedo l'ora di poter avviare una discussione bene grazie Jeanette tutta una serie di spunti ci hai fornito per poter avviare delle iniziative tanto interessanti quanto quelle italiane abbiamo raccolto davvero molti consigli ed ora darei finalmente l'avvio al dibattito abbiamo delle richieste di intervento che però esistevano dall'inizio nel nostro webinar quindi non so se rappresentano un errore quindi cederei innanzitutto la parola Francesca che aveva richiesto di intervenire non so se Francesca c'è probabilmente deve attivare lei stessa il microfono se vuole parlare ecco la qua eccomi sono Francesca Arca di Terni sono qui con Eva che è austriaca e io ho scritto perché in Umbria che è governata dalla Lega si sta facendo un disegno di legge che a noi sembra proprio che sia contro diciamo le donne perché le guerre le care al servizio di famiglia come avete già detto voi quindi diciamo il cari viger ci sembra proprio una restavolazione tutto qua però mi mancano le parole perché veramente resenta quasi l'incredibile c'è praticamente questa proposta che si chiama l'atto 584 e che sembra diciamo un punto di vista del tutto diverso sul contributo che deve svolgere la popolazione Umbra quindi non viene aiutata ma ci si aspetta che praticamente la regione la famiglia dia un lavoro di assistenza sociale svolto gratuitamente questo tutto sulle spalle delle donne e poi diciamo a questo si aggiunge anche la proposta che cambia diciamo il tono però il ricopro obbligatorio dopo la somministrazione della pilola abortiva quindi andando contro anche la legge statale che è stata diciamo la regione invece si è dovuta adeguare in passato per l'intervento del ministero della salute e l'approvazione quindi direzione già annunciata dalla firma diciamo del patto associazione provvita della presidente dei sei all'inizio del suo mandato perché è appunto la nostra presidente leghista e che quindi aveva nel suo programma una direzione vintage che ci porta indietro praticamente direttamente agli anni sessanta se non cinquanta come dicevate voi all'inizio esatto grazie Francesca grazie mille credo che questo non so se c'era una domanda o se era un contributo alla discussione lo accetto era un contributo alla discussione perché insomma ecco dovremmo farci carico a livello europeo appunto di guardare a questi rigurgiti di restaurazione che in Italia purtroppo a macchia del lovardo stanno avvenendo un po' ovunque assolutamente e credo che confermi esattamente quello che ha detto Sara se noi non ci occupiamo di politica la politica si occupa di noi si occupa di noi e si occupa male la maggioranza facciamola noi la politica grazie mille per questo contributo grazie Sara volevi rispondere? sì volevo rispondere mi sembra in realtà sia nelle Marche c'è stata una situazione analoga in Italia in Italia un'altra regione nelle regioni che sono governate da un determinato partito in Italia c'è di nuovo questo attacco all'autodeterminazione all'aborto però nelle Marche c'è stata immediatamente una forte reazione tutte le donne sono scese in diverse città a protestare e questo è quello che deve esserci una reazione immediata pronta perché se non succede questo si occupano di noi siamo siamo infantilizzate anche il nostro corpo esatto sì rimaniamo attive e reattive e che c'è una ich mach das mal wieder auf Deutsch sorry für die Dolmetscherin proseguo in tedesco ovviamente è frustrante quando si ha la sensazione di dover sempre riproporre le stesse tematiche di doverle in qualche modo difendere ma credo che sia davvero importante che noi facciamo una sorta di salto in avanti e questo lo possiamo fare perché ci consentirà di avere pari poteri a livello economico vorrei cedere la parola a Edgardo e poi a Giorgia sì buonasera mi sentite la sentiamo ci dica pronto la sentiamo benissimo il caro sentite forse lui non sente noi noi sentiamo pronto mi sentite sì si sente grazie ciao allora io ho fatto una domanda relativa appunto al tema di questa discussione mi presento io sono mentor di un'associazione di ingegnere biomediche sono stato ex consigliere del comitato economico e sociale europeo mi sono 12 anni a Bruxelles sono molto impegnato sulle questioni europee la domanda l'ho fatta sul tema come riuscire a indirizzare le risorse dei piani del recovery plan del next generation verso next generation you verso il genere femminile e poi volevo rivolgere questa domanda in particolare la volevo porre a Linda e poi a Sara che ha parlato di argomenti relativi al tema della relazione e anche ne ha parlato Jeanette sul tema della sorrellanza io sono più di 20 anni che sono impegnato sulle tematiche di genere e di varietà di genere nel sindacato ho fatto attività sindacale per circa 30 anni e trovo che sia necessario e molto importante avere una cooperazione di genere e cioè creare le condizioni di un'alleanza transizionale come richiamava Jeanette cioè sia di genere che di razza che di realtà e pertanto volevo un po' sentire il vostro parere perché qui in Italia il dibattito è ancora piuttosto chiuso tra chi ritiene che il femminismo debba essere gestito esclusivamente da donne e chi ritiene invece che ci debba essere da parte di persone sensibili parlo di maschi sensibili la possibilità di riempire di femminismo i loro spazi grazie grazie mille Edgardo perfetto Linda Laura Zabadini vuoi rispondere alla domanda sull'utilizzo dei fondi del recovery Next Generation EU e poi magari sentiamo Sara Jeanette sulla seconda parte tra l'altro ho visto che ci stanno anche altre domande che mi hanno fatto non so se è il caso che rispondo a tutti insieme Sì se riesci a essere breve perché abbiamo ancora anche cinque devo essere brevissima allora le metto tutte insieme una sono state chieste alcune cose a proposito delle cose che ho detto una è quella qual è la situazione delle single mothers cioè delle madri sole in Italia e in Italia la situazione è particolarmente critica perché sono più a rischio di povertà come in tutta Europa e il il salto che c'è stato nel 2020 le ha forsemente penalizzate quindi la situazione è di un segmento di popolazione particolarmente a rischio la seconda cosa è come si fa a individuare a misurare i disoccupati cioè che vuol dire cercare il lavoro come si misura si misura attraverso le indagini sulle forze di lavoro si chiamano così che sono armonizzate a livello europeo cioè praticamente si estrae un grandissimo campione circa 300.000 famiglie a livello nazionale in Italia però insomma commisurato così in tutti i paesi in proporzione alla popolazione e si chiede alle persone se hanno si hanno lavorato nella settimana di riferimento oppure se non hanno lavorato se hanno cercato attivamente lavoro sei disoccupato se oltre a non aver lavorato hai cercato attivamente hai fatto almeno un'azione di ricerca quindi non è gli uffici di collocamento non devi essere registrato da qualche parte sei disoccupato basta che ti sei attivato che hai cercato lavoro in qualsiasi in qualsiasi modo poi mi si chiedeva anche se si possono coinvolgere le deputate le deputate molte deputate sono già coinvolte devo dire c'è stato da un punto di vista alle deputate c'è stata un'adesione importante e anche trasversale devo dire non soltanto all'iniziativa io per esempio i donna e la salvezza hanno partecipato in tante di tutti gli schieramenti quindi questa secondo me è una cosa assolutamente positiva e mi si chiedeva sul piano dei stereotipi che cosa sarebbe una bomba secondo me sarebbe una cosa importantissima non è mai stato fatto un piano serio contro gli stereotipi di genere dovrebbe essere una cosa noi stiamo lavorando anche come women 20 dovrebbe essere una cosa che si dovrebbe fare a partire da quando i bimbi sono piccoli da bambini in tutti il ciclo di istruzione lavorando sulla questione dei source del media lavorando sui media sul linguaggio cioè veramente se si fa una cosa seria è quello che serve per rompere le gabbie poi sulla questione del recovery certo la cosa più semplice sarebbe stata che la commissione europea oltre a mettere i vincoli del 57% di cui si diceva avesse messo anche un qualche vincolo per lo meno sulle infrastrutture sociali devo dire che dopo un po' di tempo sono arrivate le raccomandazioni rispetto al fatto che le misure dovranno tener conto del genere delle differenze di genere quindi questo è insito già nelle raccomandazioni nelle linee guida europee quindi questo per certi versi è uno strumento che deve essere assolutamente utilizzato anche nella destinazione di quel 57% di fondi e quindi la bisogna agire sia sul fronte dell'imprenditoria perché è chiaro che per esempio sul fronte diciamo della della parte di di transizione ecologica e noi lì le potenzialità delle donne possono essere enormi quindi il problema è anche riuscire a investire molto nella formazione nel riorientamento perché questo serve serve anche dare gli strumenti di base perché questo possa avvenire dopodiché anche per quanto riguarda le assunzioni certo quando parliamo di costruzioni quando parliamo di trasporti la vedo dura perché quelli sono settori veramente dichiaratamente maschili ma negli altri c'è un problema anche di eh trovare le strade per nelle grandi imprese per far capire che cosa l'importanza della diversity ma magari cominciare a introdurre anche dei criteri che permettano per esempio di agire eh sulla questione delle imprese che si occupano di tecnologia dell'importanza della presenza anche nelle nelle squadre proprio che che disegnano l'intelligenza artificiale di una presenza equilibrata di donne cioè su questo c'è da fare una grossa azione sistematica però il vincolo che non è vincolo oggettivo però è una raccomandazione e si deve dimostrare che quella misura ha degli effetti anche sulle donne e in qualche modo induce eh uno sforzo notevole nel momento in cui si indirizzano i fondi e quindi qui sta anche a come dire la creatività della parte governativa di riuscire a bilanciare quello che non è stato bilanciato con la scelta che è stata fatta cioè di concentrare sul cinquantasette per cent perfetto Linda Laura grazie mille posso magari aggiungere per il settore digitale che io conosco bene abbiamo fatto una serie di proposte di come aumentare la presenza delle donne anche con un webinar il quattro marzo c'è un manifesto che si chiama il Io Digital Manifesto dove si trovano delle proposte molto pratiche molto concrete come nel giro di un anno o due si possono utilizzare questi fondi per aumentare massicciamente la presenza delle donne nel settore digitale brevissimamente Jeannette e Sara sulla domanda dell'alleanza con gli uomini chi vuole cominciare Sara io ritengo che sia la parola diciamo chiave di questo periodo sia inclusione e quindi l'inclusività non parliamo solo di temi delle donne di femminismo a tutti i livelli dovrebbe essere ormai applicata nell'appello del giusto mezzo noi diciamo che sono richieste delle donne per tutti per tutta la società perché il benessere socio economico e culturale ricade su tutti applicando allocando i giusti investimenti e facendo le giuste riforme strutturali in determinati settori noi riteniamo che questi temi debbano riguardare anche gli uomini debbano interessarli credo che in realtà in Italia il vero problema sia al contrario che siano gli uomini che non ci fanno toccare palla detto con una metafora calcistica brevemente perché dovremmo arrivare alla conclusione del nostro webinar ma ancora molte richieste la domanda sul femminismo e sulla sua definizione o chi può fare femminismo per così dire che credo sia estremamente importante perché che cosa può fare un uomo sostanzialmente perché il lavoro del movimento o diciamo il percorso che dovremmo attivare per poter arrivare a un'economia più femminista significa coinvolgere e avere il consenso anche degli uomini che sono ai vertici del potere decisionale quindi è importante il ruolo degli uomini in questo contesto e un altro punto nel campaigning noi spesso parliamo di step up step back cioè capire in quale diciamo fase io creo degli spazi e faccio un passo avanti come uomo e apro questi spazi per le donne per il femminismo per la diversità e l'inclusione e quando invece faccio un passo indietro cioè lo faccio ma do la ribalta a chi invece è più colpito grazie Jeanette e adesso un uomo alleato che fa molto nel Parlamento europeo per rafforzare la presenza delle donne soprattutto nelle istituzioni finanziarie Sven Giegold sì grazie Alexandra io sono il coordinatore dei Verdi nel comitato per appunto finanze e l'economia monetaria e con Jeanette ho collaborato molto strettamente ma volevo affrontare un altro aspetto cioè ritengo che noi come movimento dei Verdi per troppo tempo abbiamo tenuto gli occhi chiusi di fronte alla precarizzazione del lavoro per un grande gruppo della popolazione ed è diciamo che in cui sono sovra rappresentate le donne mi è piaciuto molto il libro working class di Julia Friedrichs un libro davvero incredibile e interessantissimo perché descrive come per così tante persone in contesti così diversi e gran parte dei loro donne sono precarizzate e sfruttate dall'economia e ritengo che noi nella politica abbiamo ancora delle buone risposte in quei settori in cui il lavoro è organizzato piuttosto bene ma in quei settori in cui abbiamo lo sfruttamento abbiamo il lavoro precario spesso non sappiamo che dire e sono anche dei settori in cui prevalgono le donne in Germania esiste tutta una serie di persone che offrono servizi di cura per redditi bassissimi abbiamo appunto nel settore del precariato nel settore del lavoro indipendente sono degli aspetti in cui sono molto presenti diciamo dei contesti in cui questi soggetti sono sfruttati e sono presenti in grandi numeri spesso si tratta anche di attività illegali sono oggetto di sfruttamento quindi vorrei capire qual è appunto la situazione in termini di precarietà in Italia perché molto spesso è difficile insomma avviare delle misure che abbiano un valore vincolante nel settore ad esempio delle attività domiciliari delle attività illegali e sarebbe importante creare pari opportunità e uguaglianza soprattutto rivongendo lo sguardo a queste attività precarie e a tale proposito abbiamo bisogno delle proposte politiche molto forti io so che in Germania non sono una delle priorità sull'agenda politica sì ti posso solo dare ragione Sven vorresti aggiungere qualcosa a questo punto cederei la parola a Linda Laura Sabadini vorrei raccontare una breve aneddoto sulla precarizzazione del lavoro per il bilancio del Parlamento europeo quindi non per il bilancio sul quale vota il Parlamento europeo ma il proprio bilancio amministrativo abbiamo fatto una verifica sulle pari opportunità e l'uguaglianza come gruppo dei verdi e è risultato qualcosa di molto interessante vale a dire si sono precarizzati o mantenuti in rapporti di lavoro precari i lavoratori donne delle mense scusate mentre i insomma i conducenti delle vetture nelle quali viaggiavano i parlamentari invece hanno potuto ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato quindi sostanzialmente vediamo appunto il trattamento diverso vediamo quanto è importante appunto quanto sono importanti gli aspetti intersezionali a tale proposito vorrei cedere la parola a Linda Laura Sabadini prego sicuramente sicuramente la la questione della precarietà e la questione dell'irregolarità del lavoro sono dei punti critici nei momenti di grande crisi come quella che stiamo attraversando e il nostro paese ha vissuto già una precarietà che aveva riguardato in particolare e aveva toccato in particolare i settori femminili e i settori giovanili che poi sono quelli che hanno maggiormente risentito e sono stati maggiormente colpiti da questa crisi accanto a questi si aggiungono i segmenti di di popolazione straniera che anche questa è stata tra i segmenti di popolazione più colpita soprattutto nel nord del paese dove è maggiormente radicata la precarietà però è un elemento che ha sempre caratterizzato e anche l'irregolarità una presenza maggiore nel mezzogiorno del nostro paese che è questo nel senso di come poi questi aspetti si combinano disuguaglianze su disuguaglianze no? Cioè la precarietà si radica laddove già la situazione di esclusione dal mercato del lavoro è maggiore e le misure chiaramente inevitabilmente hanno una maggiore difficoltà a raggiungere questi settori in Italia di misure ne sono state adottate molte sono state adottate anche tutta una serie di agevolazioni che hanno raggiunto cittadini anche lavoratori indipendenti che avevano soltanto la partita IVA e così via è stata utilizzata anche una una misura di reddito di emergenza che si è affiancata al reddito di cittadinanza quindi è uno strumento volto proprio a difendere diciamo i cittadini dalle situazioni di povertà però comunque nonostante tutto questo noi nel 2020 abbiamo avuto un milione di poveri assoluti in più e un milione di poveri assoluti in più è molto considerando il grande investimento che è stato fatto nei ristori nella cassa integrazione in tutti cioè nonostante il blocco dei licenziamenti e così via quindi effettivamente c'è un problema di riuscire a dotarsi degli strumenti adeguati cioè questa crisi ha messo proprio in evidenza è stata talmente drammatica che ha messo proprio in evidenza che che bisogna trovare delle ulteriori misure in situazioni emergenziali così una cosa che volevo dire mi riferivo anche alle cose che venivano chieste prima ci si interrogava perché in Germania c'è stata meno mobilizzazione di quanto non ci sia stata in Italia mi pare che lo dicesse non mi ricordo chi delle amiche tedesche no perché c'è stata questa minore mobilitazione secondo me va anche ricercato in una cosa cioè in Italia la crisi è stata esplosiva molto più che in Germania cioè noi veniamo che non eravamo ancora usciti dalla crisi precedente noi non avevamo recuperato i livelli di PIL avevamo recuperato i livelli di occupazione ma solo non per tutti non al sud non per gli uomini non per i giovani che ancora dovevano recuperare quindi nel momento in cui si è scatenata la crisi si è andata a è diventata molto più grave la situazione e molto più grave per le donne che già stavano male quindi inevitabilmente da parte delle donne c'è stata anche più reazione con tutte le difficoltà del momento a reagire perché poi reagiamo così interagendo con i webinar Grazie Linda Laura credo che abbiamo ascoltato molti motivi ci sono molte domande e credo che uno degli aspetti che è stato di grande aiuto sono le cifre che pubblichi tu nell'Istituto Italiano di Statistica Istat in Germania è molto più difficile raccogliere cifre che siano altrettanto calzanti quanto quelle dell'Istat quindi ti ringrazio davvero per tutte le iniziative che adotti ovviamente anche con le cifre anche con i numeri si fa politica ci sono molte domande ma noi siamo già oltre il tempo previsto sicuramente questo è un dibattito che porteremo avanti in futuro magari anche in un altro formato ma molto volentieri assieme ed ora cederei volentieri la parola a Franziska Brandner la mia collega del Bundestag perché ci dica quali insomma quali sono le conclusioni che può trarre da questo webinar di oggi Franziska grazie Alexandra e ringrazio tutte le panelist anche dall'Italia ritengo che sia un dibattito estremamente interessante vedere appunto cosa è stato fatto in Italia cosa si sta muovendo in Italia cosa non è accaduto da noi in Germania la situazione forse è meno drammatica perché noi non vivevamo una vera e propria crisi finanziaria prima ma le donne sono in sovraccarico in ogni caso hanno dovuto affrontare grandi difficoltà finanziarie ma ciò nonostante non vanno a protestare per le strade e credo che Alexandra tu sei sicuramente l'unica persona che può gettare un ponte tra la Germania e l'Italia quindi grazie davvero per il lavoro che stai facendo in tal senso ci hai mostrato anche quelle che sono le prospettive per il recovery plan e vorrei affrontare un punto che credo valga per entrambi i paesi e che è stato reiteratamente menzionato vale a dire il ruolo delle famiglie delle madri e delle donne e noi abbiamo molti diciamo gran parte della nostra economia si basa sul fatto che appunto ci siano delle persone monoparentali appunto che sia in Germania o in Italia ed è un aspetto che va affrontato per tutti coloro che si occupano appunto dell'assistenza dei propri genitori dei figli dei genitori anziani io credo che occorra affrontare questa base dal punto di vista economico credo che questo sia un compito che dovremmo affrontare perché dal punto di vista diciamo economico questo è ancora il modello che seguiamo sostanzialmente o il modello prevalente nei nostri paesi e poi la pari retribuzione abbiamo anche affrontato l'aspetto del lavoro irregolare nei trattati appunto dell'Unione Europea c'è scritto appunto pari retribuzione per lavoro di pari valore e io credo che questo aspetto del pari valore dovremmo davvero sottolinearlo e questo è quanto prevedono appunto i trattati e sui quali dobbiamo insistere in particolare appunto per quanto riguarda la direttiva sulla parità di retribuzione e io spero davvero che nel prossimo semestre fino all'elezione delle nostre delle fino all'elezione in Germania mi auguro appunto di vedere se il governo tedesco continuerà a bloccare questo tipo di di norma adesso la Gran Bretagna è uscita quindi mi chiedo che cosa farà la Germania e che cosa farà l'Italia forse possiamo cercare di spingere perché appunto questa direttiva sulla parità di retribuzione per lavoro di pari valore possa imporsi ci sono voluti appunto moltissimi anni finché si giungesse a questa proposta e quindi noi dobbiamo fare di tutto nei nostri paesi per riuscire davvero a ottenere il migliore risultato e a collegare anche questo aspetto con il lavoro assistenziale di cura che abbiamo affrontato in questo webinar questo è un compito per noi tutti nel prossimo semestre di far sì che l'opinione pubblica possa essere sensibilizzata alla questione e in tal senso ringrazio tutte le nostre panelist Jeanette Linda Laura Sonia Sara mille grazie purtroppo il mio italiano non è così perfetto come quello di Alexandra ma vi capisco quindi vi ringrazio di cuore è bello sapere che lottiamo per la stessa causa e che possiamo creare insieme la consapevolezza non abbiamo raggiunto molto ma abbiamo già fatto molta strada alcuni dicono che dagli anni settanta non abbiamo fatto passi avanti io direi invece l'esatto contrario abbiamo già fatto molti passi a volte dobbiamo difenderci contro chi invece ci vorrebbe rispedire negli anni cinquanta a volte è duro lottare ma noi continueremo a combattere e vogliamo continuare a fare passi avanti io credo che questo webinar sia stato un grande esempio per dimostrare a tutti che cosa vogliamo fare assieme e quindi a questo punto e ancora grazie di cuore per aver partecipato e alla prossima buonanotte buonanotte grazie a tutti grazie a tutti